Ispezioni fatte su alcune piastre dei progetti case di Sant'Antonio, cioè se di Preturo è coppito dopo l'incidente al piano case di Sant'Antonio dove una tavola caduta da un balcone ha rischiato di travolgere un bambino di origine indiana. La denuncia della famiglia ha spinto il comune ad effettuare dei controlli approfonditi per capire se si tratta di un caso isolato. La problematica è molto più complessa. Di certo negli anni gli appartamenti del progetto case hanno dato più di un problema a causa della scarsa manutenzione. Il comune sta cercando anche delle risorse per un abbattimento selettivo ma ci sono molte situazioni di degrado. A seguito comunicazione di questo evento di cui c'è stato il distacco di una tavoletta di legno da un balcone abbiamo provveduto insieme con tutti i tecnici disponibili del progetto CAS perciò sei tecnici qualificati più un coordinatore a procedere alla ricognizione di tutte le piastre interessate della ditta Pellegrini. Fino adesso verbalmente mi hanno detto che non ci sono criticità dal punto di vista strutturale ma solamente ci sono delle criticità dal punto di vista di consumo diciamo del materiale perché essendo un materiale di legno la prima geomene ci sta questo deterioramento che noi cercheremo di risolvere il più breve possibile. Il comune porterà avanti anche un censimento per capire la reale situazione del progetto CAS e dei MAP fortunatamente dal primo agosto ci sarà personale in più. Finalmente e di questo ringrazio l'amministrazione comunale di cui io faccio parte arriveranno cinque nuove unità operative proprio dedicate per il progetto CAS perciò dal primo settembre partiremo insieme con gli uffici in questi giorni abbiamo fatto delle riunioni proprio per dedicarci a questo partiremo con un grande censimento e di un grande controllo di tutto il progetto CAS per quanto riguarda sia le utenze le persone che occupano il progetto CAS. Noi cerchiamo sempre di andare in meglio però dipende anche certe volte pure dai cittadini che occupano quelle delle malattie zone. Faccio un esempio tre anni fa appena inserato nel mio assessorato ho provveduto a stanziare dei soldi per fare una grande pulizia sotto le piastre dei progetti CAS. A distanza di un anno dopo aver speso 100.000 euro per pulire diciamo sotto dove stanno i pilastri del progetto CAS alla fine dopo un anno abbiamo ritrovato la stessa situazione come prima anzi peggio di prima. E intanto sul fronte del progetto CAS il comune continua la caccia ai morosi che non hanno pagato il canone di compartecipazione alle bollette. Ci sono più di 2.000 posizioni debitorie riferibili agli anni 2015 e 16 totale da recuperare circa 300.000 euro. Stiamo lavorando e grazie all'unità operativi che arriveranno a breve stiamo lavorando per arrivare ai giorni nostri e tenere tutti i conti in ordine procedendo con il recupero coattivo mediando la trasmissione di tutti gli atti all'agenzia delle entrate. Grazie. 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 Grazie.